milanista ti stavo pensando e mi sono detto ma vuoi vedere che alla fine vince l'europa league sto milan comunque i milanisti sono contenti ho visto no meno male andiamo in europa league tutti contenti ma cioè l'interista è contento dice no meglio la seconda stella o milanista meno l'europa league quando usciva la juventus oh vergogna in europa league la sempre più importante ma a milano ragionano così va bene allora milanista buonasera ti stavo pensando mi son detto ma vuoi vedere che sto milan zitto zitto o guarda caso guarda caso non c'è in seviglia allora mi son detto perché se ci fossi stato in seviglia no tu in semifinale in finale perdevi pure tu ascoltami no seviglia inter chi ha vinto il seviglia seviglia juventus in semifinale che ha vinto il seviglia finale seviglia a roma che ha vinto il seviglia c'è il seviglia è stato l'incubo nostro e guarda caso tu ti presenti che non avevi vinto mai sia l'europa league sia coppa uefa perché ti manca in bacheca perciò guarda guarda caso guarda caso o manca come si dice manca in seviglia e guarda caso tu potresti vincere l'europa league ma ti rendi conto puoi vincere l'europa league per ti dico comunque ripeto secondo me puoi andare avanti ti dico soltanto forse avrai due squadre che ti danno testa o e secondo me sono forse qualcosa di superiore ma non di tanto non sono mangi subito uno bei l'everkusen e l'altro il liverpool questi due secondo me sono ancora un tantino più forti di te forse anche più superiore di poco ma sono superiore poi gli altri te li puoi giocare le puoi sconfiggere e secondo me ripeto per me se tu giochi da quel mina il bellaccanito le alfa top play si è girato girù perci fa perù perci fa la un top play pure poi la c'è ciccu 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 cacca la ciccu avete trovato su mini top play ciccu ciccu tala quindi secondo me milanista avete dico può andare almeno in semifinale europa league perché però però perché manca in seviglia perché quest'anno guarda caso il seviglia forse dopo tanti anni o non riuscite a qualificarsi per il terzo posto che di soli seviglia dalla dalla champion scendeva e vinceva automaticamente la coppa sette coppe europeccia sette europa league sette coppa ue faccio seviglia e stavote in mina ripeto ce la può fare ripeto vale per cui se è lì per più milan gli altri te li puoi giocare stare come vuoi già